no 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 basta 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 no 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 basta basta la pazienza ha un limite io ho finito tutta la pazienza basta non ce la faccio più avete rotto ha spaccato basta io non ce la faccio più basta insultare molte freddi basta non ce la faccio più basta 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 per favore basta insultare molte freddi io ne sono stufo io ne sono stufo basta io io ho perso la pazienza l'ho persa basta è un bambino di 10 anni cosa potrebbe pensare ma vi immaginate cosa state facendo un bambino di 10 anni che forse che forse potrebbe che forse potrete potrete essere più grandi di lui non potete abusare i minori no ogni volta che vedo abuso sui minori segnalo basta non è possibile non ce la faccio basta torturare molte freddi se non si è se non diventate amici se non diventate amici di molte freddi inc dite addio al mio canale dite addio al mio canale non voglio essere più vostro amico basta andate via da questo canale ora non ritornatevi in che non siete amici amico di molte freddi inc basta avete rotto ha perso la pazienza la pazienza ha un limite e io l'ho persa tutta basta andate via addio non vi voglio mai più basta basta ho sopportato fino a oggi ora addio basta andatenevi andatenevi via e non ritornate finché non siete amici di molte freddi inc basta basta io non vi voglio basta io vi odio basta io vi odio basta andatenevi via non ce la faccio basta 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 no è inutile no è inutile che scrivete sui commenti scu no per favore ritorna al vostro amico no no è inutile che cliccate coi pulsanti no no è inutile basta no no è inutile potete fare tutto ma io vi lascio basta non non ce la faccio l'avete rotto basta 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 basta